Due strade per un campionato, ancora però tutto da scoprire in una situazione in evoluzione continua, visto che ieri la quinta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di abbreviazione dei termini per il ricorso presentato dalla Teramo Calcio e fissato l'udienza al 25 agosto per l'esame della domanda cautelare. Ma la strada per la Serie C non è affatto più semplice di quanto non fosse prima della pronuncia dell'organo di giustizia amministrativa di ieri. La questione non è affatto semplice da risolvere e in ogni caso il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, oggi terrà un summit con la cordata che fa riferimento alla neonata SSD Città di Teramo per una valutazione più dettagliata del progetto presentato in ottica di arrivare se ci saranno le condizioni a valutare l'idea di calcio della cordata che si è palesata qualche giorno fa. Non è escluso un coinvolgimento della Commissione Comunale all'incontro di oggi, Commissione preseduta dall'avvocato Gianni Gebbia. Le verifiche si concluderanno a quanto pare entro lunedì prossimo per consegnare poi un parere definitivo sulla solidità del progetto al primo cittadino. In caso di esito positivo lo sottoporrà all'esame della Federcalcio che dovrà decidere poi in quale casella dei vari campionati inserire l'eventuale nuova società. Sul fronte parallelo, quello della Teramo Calcio SRL invece c'è ancora fiducia di poter strappare il photo finish una Lega Pro conquistata sul campo. Ma è evidente che il campo basso con cui spesso in queste settimane il diavolo ha condiviso il percorso giudiziario parte da una posizione decisamente differente. Una volta pubblicati i due verdetti attesi entro venerdì 26, la Lega Pro procederà con i gironi definitivi e i calendari che potrebbero essere sorteggiati o lo stesso 26 agosto o il giorno successivo. Un danno di immagine per la Lega Pro, come afferma stamattina sulle colonne del Corriere Adriatico il presidente Ghirelli, enorme. Un'esquare che hanno rivisto i piani di allenamenti, altre che con il rinvio della Coppa Italia hanno stravolto la programmazione e con la necessità di recuperare la giornata inizialmente prevista il 28 agosto. Con ogni probabilità sarà recuperata subito dopo l'inizio del campionato, forse anche addirittura nella settimana successiva, ha detto il presidente della terza serie nazionale. In ogni caso, ha concluso Ghirelli, si giocherà con un turno infrasettimanale che andrà così ad aggiungersi a quelli che già avevamo intenzione di programmare.